Elezioni cantonali 2023. Cosa c'è da sapere per votare? Il 2 aprile 2023, le cittadine e i cittadini ticinesi saranno chiamati a eleggere il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio per la legislatura 2023-2027. La busta ti verrà inviata per posta e contiene il materiale ufficiale per esprimere il tuo voto. Carta di legittimazione, schede di voto, materiale informativo e buste ufficiali. Per votare, devi compilare personalmente le schede di voto. Puoi scegliere una lista oppure scegliere la scheda senza intestazione. Poi scegli le candidate e i candidati ai quali desideri dare un voto personale. Per il Consiglio di Stato puoi esprimere fino a un massimo di 5 voti personali. Per il Gran Consiglio al massimo 90. Prenditi abbastanza tempo per leggere e compilare le schede. Devi compilare il materiale personalmente e ricorda, il codice penale punisce le violazioni. Se preferisci votare per corrispondenza, compila la carta di legittimazione di voto e imbuca la busta di trasmissione nella cassetta di voto del tuo comune. Oppure metti il francobollo e spedisci la perposta. Se preferisci le carte al seggio elettorale, ricorda di portare con te la carta di legittimazione e le schede di voto. Se la scheda è danneggiata o se hai commesso un errore mentre compili le schede di voto, rivolgiti alla cancelleria del tuo comune. Utilizza sempre e solo il materiale ufficiale.